Nell'episodio precedente della serie a POTERCRAFT Oh mio Dio, guarda No, guarda che roba No, guarda che roba, non ci credo Hanno fatto anche l'animazione Che figaro Che si apre Uh, abbiamo trovato soldi e una ricordella La quest è Locate E lui fa Fret Eh, dobbiamo andare al Gringo, sì Ok Oddio, c'ho la bacchetta Ok, ho messo i vestiti Posso anche mettere i Googles? Oh mio Dio Ho messo gli occhiali Oh mio Dio, cos'è sta roba Ma sei pronto per volare su un aeroplano? Andiamo verso la stazione, a che ne dici? Sì, andiamo un attimo a due ore fa Vai Vi ritiamo un attimo a la città qui Vai, andiamo verso la stazione Verso l'infinito e oltre Oh, mi vieni a vedere la cattedrale Dove, dove, dove? C'è una cattedrale Credo di sì, non so cosa sia Andiamo a vedere cos'è Andiamo un po' Madonna È fatto veramente bene, cioè Non so quante volte ormai l'ho detto sta frase È fatto veramente bene Andiamo un attimo a vedere cos'è Ma penso sia chiusa, no? Perché io vedo qualche porta chiusa là Almeno barricata che non so che può entrare neanche se ci viene altro su un orco Quindi la missione ci dice di andare alla stazione Quindi andiamo verso la stazione direi Vediamo un po' durante il viaggio se Durante questo percorso Non so se troviamo qualcosa di bello Come ad esempio il Big Bang che vedo là in alto Qua c'è un cartello dove ci dice I piccioni I piccioni I piccioni, vai, diciamoli King Ross King Berna King Ross Ok, andiamo a destra Allora Vorrei esplorare la città Ma penso che sia veramente grande Quindi non penso di farlo Se c'è magari un altro video Perché c'è una roba enorme qua Allora, qua gente che reagia il giornale Come al solito Gente che parla Qui abbiamo una bella statua Cartello King Ross sempre qua a destra Perfetto Io sarei curioso di vedere London Isle Sicuramente Non so per magari mostrare leggermente la città Non so dove sia però Ok, qui abbiamo London Isle Bello, bello, grande Madonna, è immenso Cosa ci si può studiare? I raggi Con cosa sono fatti? Col vetro Ok, abbiamo Per una nuova zona London Isle ci sta No, non credo che si possa salire È soltanto una zona che si scopre Uh, qui abbiamo gente che è nel parchetto Cioè Sta proprio nel prato Bello Qui abbiamo una propita che fa il padre Ma questo sta guardando il fisso da qualche parte Guarda, non si muove neanche Sì Gli hanno fatto petrifico sto tav Una città immensa, qualche easter egg Adesso cosa abbiamo qua? Belle biciclette C'è anche il Gov Office Qua sta sempre la gatta dove hai shait Eh sì, esatto Ok, qui abbiamo un minibar Cos'è un bar? Una cosa? Minibar, sì No, no, no Aspetta Il minibar è lana C'è lana qua E quando Aspetta Quando parli ti sparisce il cappello Sì Ti sparisce il cappello quando parli Hai grande A me spariscono gli occhiali Quando parlo Vabbè Sì Spariscono gli occhiali Sì Perché ci sono delle scritte strane Ah ok C'è la scritta E King Ross Perfetto Siamo arrivati in King Ross Proverò un attimo a vedere qua Che ho visto un minibar Tensi verso Ma questo Allora fammi capire una cosa Guarda Guarda Io Allora Stiamo qui Questo Guarda Quello lì Cosa sta guardando? Che cosa sta guardando esattamente? Un po' come questo qua Cosa sta facendo? Sta mangiando L'omulette con gli occhi? Sì Sta mangiando con gli occhi Sta proprio Ipnotizzando Il cibo Esatto Sta testando i suoi poteri Da sovranaturali Qui Abbiamo gli alcolizzati Guarda Questo che faccia Che c'ha Sembra veramente Uscito da Sì E' mezzo addormentato Madonna E' mezzo addormentato Oppure sta cercando di superare La dipendenza dall'alcol E' tipo Depresso Guardalo Sto fissando il vuoto E' depresso Neanche se ci avviciniamo E' depresso Mio dio Qui Abbiamo tutte persone depresse Però abbiamo i piccioni Vediamo se mi avvicino No Perfetto Oh mio dio Questo è nuovo Non l'ho mai visto Questo Questo non l'ho mai visto E' vero? E' nuovo? E' nuovo E' nuovo Il portinario? Il portinario Può essere vestito così Vai vai Facciamo un incantesimo Ci sono due ragazzi Uno con il cappello Uno con gli occhiali Oh mio dio Questi credo siano La famiglia Weasley Perché tu dici Rossi Sono loro Sono loro Sono Wesley Oh mio dio Se questo è Ron Mi buto giù Ok va bene Allora Qui abbiamo la madre Suppongo Qui il padre E' qui Persi Credo E' uno dei fratelli Qui abbiamo i due fratelli Weasley E Ginny Ok giustamente Dobbiamo correre verso La piattaforma Qui in mezzo Suppongo Vai vai Partiamo da qua dietro Proviamo Vai vai Vado io Vado io Aspetta no Mi sono fermato Ok vado io Boom Uh attenzione Siamo passati Ehi Sono arrivato nel B.I. 9.75 Ehi la Ehi la Attenzione Questo Questo È completamente Differente Uh guarda cosa c'è scritto qua Hogwarts Express Parlo io Oh mio dio Ma questo Sì Questo è Nevy Oddio è Nevy Il gioco Sì sì No davvero È lui È lui Oh no Hello Mi name is Nevy Longbottom Ok cosa vuoi Vuole che Li troviamo La sua rana Trevor In cambio ci dà 100 monete Oddio Non mi farebbe male Ma io la cercherò Cercherò Ti è parsela questa Vediamo Sì sì È parsela anche a me La questa Ok Prima faremo questa questa Ma magari sotto i binari Tu che dici Sotto i binari E proviamo a vedere Sotto i binari Eh questo è una rana In pittura È finita sotto Eh vediamo Anche se io ti ho perso Non so dove stai Eh è un altro binario Io sono Ah ok Sì è dall'altra parte Ok Non lo so Ah ok Forse ti ho visto Ho visto Una macchiolina gialla In fondo Forse ti ho visto Sì vediamo Dentro i binari Sotto i binari Non lo saprei Sotto i binari Non so Non ci vedo Non ci vedo nulla Però magari Dalla tua parte C'è qualcosa C'è la rana Come dicevi tu Sopra il treno Sopra il treno Vediamo magari Qui si può arrivare Andiamo un po' Ah Giustamente Giustamente Ho appena visto Ho appena visto La rana Sì È qua sopra Sì 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 F to collect Ok Tu ovviamente Cati Non sei mai stato Bravo Nel parkour Il treno Conductor Tutti a bordo The Hogwarts Express Will be leaving soon Find a compartment On the train And will be off In no time Bene Dobbiamo entrare Fire the empty compartment In the train Ok dobbiamo trovare Una sala vuota Una cabina vuota Una stanza vuota Dentro il treno Quindi Ne prendiamo una a caso Magari entriamo qui Vediamo un po' Oh vieni a vedere C'è Harry Potter Oh mio dio No non ci credo Questo Eh sì Eh sì È Harry Potter questo Vedi che c'ha la cicatrice Tipo qua Alla fronte Ok qui c'è Hermione E qui è Ron Attenzione Bello Ci sta Mi sembra che Ron A guardarlo meglio Si è fatto con il canno Di troppo Ok qui abbiamo Proprio di fianco a loro Ok tutti a bordo Yeah Ciuf ciuf Ok siamo arrivati A quanto pare Alla stazione di Hogsmaid Station Siamo ad Hogsmaid Bello bello Quindi cos'è che Cos'è che dobbiamo fare Dobbiamo Penso Dobbiamo andare a parlare Ok dobbiamo parlare Con Agri Vediamo un po' Cosa c'è qui dentro È un bar Questa Ok Ok si vedo Tazze No è scelta C'è qui c'è una porta Che va aperta Con una lomora Anche qui Fuoco Ambio 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 Come le altre Credo che se vieni Vedo le luci Là in fondo Eh si Ma magari Devi vedere Un'altra volta Allora Andiamo a parlare Con Agri Vediamo cosa ci dice Perché sono Veramente Sono un po' Più ingasato Di andare ad Hogs Non vedo l'ora Allora Dov'è che sta Stato Agri Dov'è che sta Stato Agri Ho trovato Agri Ah l'ho trovato Ok Andiamo a parlare Con Agri Dov'è il nostro amico Oh eccolo qua Bene Parliamoli E vediamo Cosa ci dice Nei prossimi episodi Della serie Potter Madonna In che sale Fantastica Quella dei quadri Oh mio dio Ma quanti quadri Ci sono qua Hai visto Quanti quadri Ci sono Allora Bene Dobbiamo interagire Col cappello Per farci Appunto Sorteggiare Uh attenzione Si sta riempiendo Un tutto di cibo Figo Attenzione C'è anche il buff C'è anche il buff Per la prima lezione Impareremo Lumos Ah no Sei tipo Sei tipo In un angolino SignШ G Ass guallaremo Autore Un arranc two Ciao Acquas Un 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 Grazie a tutti.